Buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata di Angoli. Oggi parleremo ancora una volta di un'altra iniziativa che riguarda il nostro territorio. Prima però vi ricordo la nostra mail angolichioccialespansionetv.it, utilizzatela come sempre per entrare in contatto con me e con il nostro programma. E adesso parliamo appunto di questa iniziativa, parliamo del Festival della Poesia, lo facciamo in compagnia di Laura Garavaglia. Buonasera. Buonasera a tutti. Organizzatrice del Festival e presidente della Casa della Poesia. Iniziamo con il dire dove, come, quando. Sì, benissimo. Allora, questa è la quarta edizione del Festival che tratterà il tema del rapporto che c'è tra poesia e musica. Lo terremo il 22 marzo, quindi sabato prossimo, a partire dalle 14.15 presso la splendida sede di Villa del Grumello, che è già di per sé poesia. Peraltro, appunto, a Villa del Grumello, questa è una cosa che ci tengo a dire, c'è il busto del Foscolo, e quindi di un grande poeta, poiché era appartenuta ai conti Giovio e il Foscolo aveva avuto questo rapporto d'amore, questa breve storia d'amore con la contestina Francesca Giovio. E quindi si trova anche lì un po' a protezione proprio di questo evento. Esatto, esatto. È un evento, diciamo, che sia per la bellezza del posto, sia anche per questa memoria storica, è legata alla poesia. Dicevamo, quarta edizione e, diciamo, tema di quest'anno è il rapporto tra poesia e musica. Certo. Vogliamo spiegarlo un po'? Sì, perché comunque la poesia ha in sé un linguaggio che ha in sé la musica, una forte musicalità, legata ovviamente, per esempio, al ritmo, che hanno i versi, alle sillabe, agli accenti, alle parole disposte, alla disposizione delle parole nel verso stesso. Del resto poesia e musica sono due linguaggi che sono nati praticamente insieme. Quindi fin dai tempi, diciamo, della Grecia classica, quando gli aedi facevano i loro racconti ritmati delle leggende, dei miti e degli eroi, accompagnandosi appunto con la cetra, da qui si capisce come siano due linguaggi appunto strettamente connessi, che poi sono confluiti ovviamente in quei due meravigliosi poemi omerici che sono l'Ilia dell'Odissea. Poi pensiamo a tutta la tradizione dei trovatori medievali che accompagnavano i loro componimenti con la viella, questo strumento a corda o con il liuto. E poi pensiamo a tutta la tradizione, non so, del madrigale trecentesco in Italia, piuttosto che quello cinquecentesco ancora di più, influenzato da Petrarca e dal petrarchismo. Tant'è vero che a un certo punto madrigale e petrarchismo sono diventati più o meno la stessa cosa. E poi per fare un salto nel tempo, non lo so, pensiamo anche solo ai simbolisti, soprattutto a Mallarmé, che individuava nella musica l'essenza della poesia. Edgar Allan Poe addirittura aveva scritto che la musica è l'idea della poesia. Ma anche semplicemente in epoca moderna ci sono anche dei premi relativi ad alcuni cantautori proprio per l'importanza dei loro testi nella poesia, considerati veri e proprie poesie. Certo, veri e proprie poesie, non so, Fabrizio De Andrè, anche su dei testi scolastici ad esempio. Anche se io sono dell'idea che comunque ciascuno dei due linguaggi ha delle proprie specificità per cui, diciamo, il linguaggio della poesia, la poesia deve saper camminare con le proprie gambe, nel senso che un testo poetico valido deve comunque poter essere scisso anche dalla musica. Uno deve comunque percepire la musicalità interna solo attraverso la parola perché è proprio la combinazione di questi suoni che danno poi il senso, omofonie, consonanze, assonanze, rime. Anche se nella poesia moderna gli schemi metrici non ci sono più, le rime sono quasi scomparse, il bravo poeta però è quello che riesce comunque a far percepire al lettore o all'ascoltatore questa musica interna, sicuramente, anche in questo andamento prosastico che è oggi tutto sommato la poesia contemporanea. Ecco, tornando al festival, parteciperanno grandi nomi della poesia e poi ci saranno anche altre iniziative. Le vogliamo illustrare un po' così per dare un assaggio di quello che sarà? Certo, sicuramente. Allora, da sempre diciamo con questo festival noi vogliamo far conoscere la nostra città che è già di per sé bella come una poesia all'estero, oltre confine, attraverso proprio il linguaggio poetico. Nello stesso tempo vogliamo portare qui grandi nomi della poesia contemporanea in modo tale che chiunque, cioè che le persone, possano anche capire di che cosa si tratta, di che cosa sia la poesia contemporanea in particolare, perché nelle scuole grossomodo ci si ferma a Montale, anche proprio per questioni di tempo. I poeti che verranno quest'anno, tra l'altro, provengono da gran parte dei paesi europei e anche dalla Russia avremo, per esempio, Ugeni Solonovic, che oltre che essere un bravo poeta è il maggior traduttore di poesia italiana in russo, addirittura dal Medioevo fino al Novecento. Ha ricevuto anche parecchi premi di poesia in Italia, tra cui il Montale, il prestigioso Montale, e ha ricevuto due lauree ad honoris causa, sia dall'Università di Siena che alla Sapienza di Roma ed è autore anche di numerosissimi saggi critici. Poi abbiamo, non so, una poetessa appunto estone, Doris Careva, autrice di numerosi libri di poesie ed è una delle maggiori rappresentanti della poesia in Estonia oggi, il turco Tugrul Tanyol, che tra l'altro nelle sue poesie riesce a evocare attraverso un paesaggio interiore la bellezza del suo paese, la Turchia, e conosce Como e reciterà una poesia che proprio ha composto qui, in cui descrive una particolare situazione in cui si è ritrovato con suo figlio, quindi anche una cosa molto bella perché è un omaggio, certo, che fa la nostra città. Poi avremo tre poeti spagnoli, Luisa Castro, galiziana, José María Mico da Barcellona e Juan Vicente Piquera da Valencia. E la cosa che mi piace sottolineare è che sia José María Mico che Juan Vicente Piquera daranno proprio nella loro performance quest'idea di legame, di connubio tra poesia e musica perché Mico suonerà sulla chitarra classica delle aree di tango da lui composte e la cantante Marta Boldu reciterà, anzi canterà i suoi versi, i versi della poesia del poeta, di questo poeta. Mentre Piqueras canterà, cioè reciterà queste sue bellissime poesie tratte da un canzoniere, secondo me è un canzoniere d'amore che si intitola Palmeras, Palme, da lui scritto, accompagnato dal violino di un grande violinista arabo, ormai naturalizzato italiano, perché da molti anni che vive qui in Italia, Hamal Wassini, il quale ha fondato questa ensemble musicale Zirab negli anni Ottanta e negli anni Ottanta e Novanta ha girato la maggior parte dei festival mondiali di musica ed è un esperto di musica araba e andalusa. Ha lavorato anche con Moni Ovadia e con altri personaggi importanti. Tra l'altro mi piace dire una cosa riguardo a questo nome Zirab perché era appunto un poeta e musicista che ha vissuto appunto attorno alla fine dell'ottavo, nono secolo dopo Cristo e che poi essendo stato un perseguitato in Iraq, a Baghdad, da Haroun al-Rassid, dal califo Haroun al-Rassid, era scappato a Cordova e qui ha fondato la musica andalusa. Si deve a lui, ecco. Tornando ad altre iniziative, leggevo che ci sarà anche questa bottega della poesia, cioè una sorta di workshop e di laboratorio creativo in loco. Certo, certo. Noi con successo abbiamo da sempre attivato questa bottega di poesia anche nelle altre edizioni. Quest'anno sarà tenuta da Mario Sant'Agostini che è un grande poeta contemporaneo, oltre che critico letterario, il quale darà dei pareri, dei consigli gratuitamente, naturalmente, a tutti coloro tra il pubblico che scrivono versi e che vogliono avere un parere da un critico, ma da un professionista, perché lui è veramente un nome importante della poesia. E tra l'altro sono molto contenta perché sono tanti i giovani che si iscrivono a questa bottega. Un altro aspetto, ci sarà spazio soprattutto per i giovani, proprio perché la poesia viene vista solitamente come una cosa passata. Comunque, dicevamo poco fa, si studia solo fino al Novecento orientativamente. Si sa poco dei poeti moderni, ancora meno dei giovani. Certo, noi tra i giovani poeti quest'anno avremo per esempio Anna Belozzorovic da Roma, che è una brava poetessa, si sta già affermando, ma comunque è giovane, e Laura Di Corcia, che è una poetessa ticinese che appunto esordirà tra poco con il suo primo libro e sarà appunto a lei riservata la sezione giovani. Tra l'altro io credo che la poesia tra i giovani sia molto molto sentita. Esistono tantissimi blog, e quindi mi fa molto piacere parlare anche della poesia in rete, dove i ragazzi si scambiano le loro poesie, si danno anche dei pareri l'uno con l'altro, quindi non è vero. La poesia è molto viva in realtà, molto più di quanto si creda. Di quanto si possa credere. E i giovani la recepiscono molto perché aiuta proprio a tirar fuori i loro sentimenti. Siccome i loro sentimenti sono ancora così puri, così vergini, i giovani riescono davvero a percepire la parola poetica. E danno a questa parola molta più importanza rispetto a quanta gliene diamo noi, mi creda. Glielo dico da insegnante anche quindi. Quindi è un parere del tutto fondato. Ricordiamo qual è l'appuntamento del Festival Europa Inversi, il suono e il senso, un'origine comune, Villa del Grumello, chiaramente a Como, dalle 14.15 poi fino a sera. Ci saranno canti, ci sarà anche questo coro composto da 30 giovani coriste dirette dal maestro Alessandro Cadario, il quale appunto tra l'altro è già un personaggio affermato perché ha girato in parecchi, diciamo, zone d'Europa a dirigere questo coro e canteranno arie di musica leggera, poi ci saranno interventi di due soprano con brani lideristici di Schumann. Insomma abbiamo cercato, ecco una cosa importante se mi permette, a cui tengo molto, i ragazzi del Conservatorio, perché noi lavoriamo molto anche con i ragazzi del Conservatorio e gli studenti dell'Insubria. I ragazzi del Conservatorio hanno preparato, quelli del Dipartimento di Musica Elettronica, una serie di musiche, di brani accusmatici, quindi è musica elettronica, musica contemporanea, sul timbro della voce di ciascun poeta, per cui alla fine della recitazione di ogni poeta partirà questo brano accusmatico studiato appositamente sulla loro voce. Personalizzato. Personalizzato, certo. Ricordiamo l'appuntamento sabato 22, il Festival della Poesia. Grazie. Ringraziamo Laura Garavaglia per avercelo raccontato, averci dato un'anticipazione, grazie ancora. Noi ci fermiamo pochissimi istanti, diamo la linea alla pubblicità, torniamo tra pochissimo, non mancate.